Come fare per eliminare le parti inutili dal video con AVS Video Editor? Passo 1. Importare i file multimediali in AVS Video Editor. Un nuovo progetto vuoto è creato. Clicca su Importa per caricare certi file multimediali nel programma. Seleziona il file e clicca su Apri. Il file importato viene posizionato nella libreria multimediale. Passo 2. Preparare il video. Clicca con il tasto destro sul video all'interno dell'area File ed Effetti e seleziona l'opzione Taglio per eliminare le parti all'inizio e alla fine del video. Oppure, scegli l'opzione Taglio multiplo per eliminare le parti in qualsiasi punto. Si apre la finestra corrispondente. Sposta il cursore della barra nel punto dove desideri iniziare il video e clicca su Marcatore iniziale. Cerca la fine del frammento che desideri lasciare e clicca su Marcatore finale. Nella stessa maniera vengono ritagliate tutte le altre scene. Quando tutto è fatto, clicca su OK per applicare le modifiche fatte. Passo 3. Tagliare il video usando la Timeline. Prima di tutto, posiziona il video nella Timeline. Sposta il cursore della Timeline all'inizio della parte che desideri eliminare e clicca su Dividi. Nella stessa maniera segna la fine della parte. Poi seleziona con il mouse e clicca su Elimina. È fatto! Tutte le parti inutili sono eliminate dal video.